3, 2, 1 Ciao ragazzi, buongiorno, allora non ci vediamo da un sacco di tempo, il mio canale youtube ormai è quasi un anno che fermo non perché non volessi andare avanti ma perché ci sono state un sacco di vicissitudini dietro ogni tanto se mi vedete guardare in basso è perché cerco di capire se l'audio si sente, se tutto funziona perché mi sono un po' arrangiato nella mia mansarda, ho montato un po' telecamera, microfono eccetera eccetera e cercherò di passare questi giorni in quarantena facendo qualche video intelligente, interessante ovviamente non con la qualità dei video che facevo prima, almeno gli ultimi perché i primi non è che avessero una grandissima qualità però di fatto non posso portarvi dei contenuti andando a farvi vedere determinate cose sulle persone perché non le ho a disposizione quindi non posso farlo però quello che voglio fare in questi giorni è fare dei video che servano sia per le persone che non sono pratiche nell'osteopatia sia per le persone che sono sanitari ma non osteopati quindi interessati alle tematiche trattate sia per quegli osteopati che come me e come penso tutti voi sono in quarantena e quindi non sanno che cazzo fare a casa e quindi magari qualcosa in più imparano o magari a scuola non hanno capito qualche cosa perché è complicata, perché il professore ha spiegato in una certa maniera eccetera eccetera insomma lo studio osteopatica non è facile perché non è scienza al 100%, non è statistica c'è di mezzo una grossa fetta che è la palpazione, la percezione corporea, la percezione percettiva personale quindi insomma è un bel casino però proviamo ad aggiustarci in questo modo magari riesco a dare qualche input a qualcuno e a far capire meglio un concetto a certe volte basta veramente una piccola cosa e cambia la percezione, cambia l'attività mentale associata alla palpazione alla tecnica che fate e veramente il risultato cambia comunque partirei invece prima di spiegarvi qualche concetto chiave, qualche concetto interessante a livello osteopatico partirei dal fatto che mi sono arrivati tantissimi messaggi veramente un'infinità sia su instagram sia su facebook sia su mail di ringraziamento, di complimenti per la capacità di riassunto di tutto quello che è il mondo osteopatico che ho spiegato in quella decina di video quindi vi ringrazio un sacco, mi soffermerei però su dei messaggi che mi sono arrivati di critica perché? perché ci tengo a spiegare determinate cose che purtroppo non passano e sono difficili da capire per un pubblico che non è un pubblico osteopatico mi sono scritto delle cosette su un tablet così almeno non mi perdo ok allora la prima cosa è legata all'absence base allora l'osteopatia non può essere spiegata scientificamente perché è una medicina manuale quindi di fatto il grosso dell'osteopatia è dato dal fatto che io personalmente devo aver sviluppato delle capacità percettive in grado di farmi percepire determinate cose discriminare grazie alla mia mano, al cervello allenato ok? alla percezione di determinate caratteristiche palpatorie e quindi da lì unire tutto quello che è un ragionamento clinico ok? quindi il ragionamento clinico osteopatico è un ragionamento clinico ok? è un ragionamento manuale, chiamiamolo così una percezione personale a livello manuale una volta che io ho messo insieme queste due cose comincio ad avere un quadro della persona più completo questo che cos'è che mi servirà? mi servirà poi a scegliere il tipo di trattamento in base al tipo di trattamento per l'effetto che io voglio dare scegliere i tipi di tecniche scelto il tipo di tecniche andrò a erogare la mia tecnica sul paziente però è completamente diverso dalla scelta di un protocollo non esiste dalla scelta di una tecnica in funzione di un effetto no! il trattamento osteopatico è specifico e univoco ok? l'audio continua ad andare? perfetto quindi di fatto le evidenze scientifiche a volte mi fanno anche un po' ridere per certe cose sono interessanti le leggo anche io le ricerche scientifiche ci sono delle ricerche fatte sulla febbre spagnola sul pompaggio linfatico su un protocollo osteopatico linfatico delle grandi pompe linfatiche che è favoloso perché aumenta la dissipazione dei globuli bianchi e la dissipazione di antibiotici o antivirali nel corpo è fantastico ci sono delle ricerche bellissime ma stiamo parlando sempre di ricerche focalizzate l'osteopatia non è una focalizzazione noi siamo abituati a vedere la medicina come specializzazione noi dobbiamo tornare un attimo indietro e vedere l'osteopatia come una medicina globale dove prendiamo il paziente lo mettiamo in una condizione di anamnesi cerchiamo di capire cosa cazzo c'ha cerchiamo di capire se il nostro contributo può andare a migliorare la sua condizione molte volte lo può fare molte volte non può andare a condizionare il sintomo a volte può migliorare sia la condizione generale del paziente sia il sintomo per il quale è venuto l'osteopatia non è nata per il mal di schiena non è la tecnica l'osteopatia è una medicina manuale che si avvale delle mani proprio per migliorare delle attività fisiologiche che poi ci riesca o meno è un altro discorso c'è anche l'individualità qua dentro quindi non può esserci una evidence base sul trattamento osteopatico perché non esiste una ripetitività quindi bisogna cercare di fare ricerca scientifica va bene avvalorare delle tecniche va bene cercare di capire se certe funzionano o certe no benissimo però di fatto troverete nove persone che fanno una tecnica e non hanno effetto arriva un cretino che la fa in un altro modo la fa bene perché la conosce fa solo quella e cazzo quella roba lì ha effetto quindi bisogna un attimo venire fuori da questa criticità da questa mentalità medica specialistica scientifica e cercare anche di capire che il trattamento osteopatico è un trattamento che coinvolge e stimola diversi sistemi poi ne parleremo un pochino meglio la seconda cosa invece ho dato una botta al microfono la seconda cosa che mi ero segnato importante è come agisce l'osteopatia perché tanti non l'hanno ancora capito l'osteopatia agisce con la meccanica quindi io agirò con delle tecniche manuali che possono essere dirette, indirette a volte spingo e tiro il tessuto a volte ascolto quello che il tessuto fa e lo seguo sono cose complicate però credetemi funziona così che cos'è che è la meccanica? la meccanica, un famoso osteopata che non mi ricordo chi fosse ha detto che è l'unione tra l'anatomia e la fisiologia cioè è quel tassello che crea un'unione reciproca di scambi tra anatomia e fisiologia non esiste la fisiologia senza l'anatomia non esiste l'anatomia senza un lavoro fisiologico queste due cose sono complementari è una causa-effetto, effetto-causa quindi gira tutto intorno alla capacità nel caso dell'osteopatia di mobilizzare il corpo di far ripristinare correttamente dei ritmi nel dare una spinta, dare una mano a un lavoro corporeo per far sì che si ripristini un corretto lavoro fisiologico non è difficile capirlo perché se io per esempio mi metto a mobilizzare delle coste avrò un miglioramento se queste mobilizzandosi vanno a rilasciare delle tensioni legamentose muscolari avrò un miglioramento nella capacità respiratoria perché? perché ho delle coste più morbide ho dei muscoli più elastici ho migliorato la mobilità e tensione fasciale intorno ai muscoli e alle coste ho migliorato quello che è il circuito elettrico magari diminuendo il voltaggio elettrico o diminuendo l'afflusso o il ristagno di qualche sostanza a livello del tessuto fasciale collagenico quindi se io mobilizzo una struttura ne miglioro la capacità fisiologica se miglioro la capacità fisiologica avrò un miglioramento della mobilità strutturale cioè sono due cose che vanno di vari passo quindi io uso delle leve o almeno una volta si usavano solo queste determinate leve per fare manipolazioni o per fare mobilizzazioni adesso si è anche un po' evoluta l'osteopatia fa altre cose però di fatto usavo delle leve per produrre una mobilizzazione della fisiologia ok terza cosa invece va bene abbiamo parlato prima le connessioni sul ragionamento osteopatico io mi sono scritto un appunto e ho detto di dire l'unione della capacità discriminativa palpatoria a fine cioè io devo essere in grado di nella mia prassi quotidiana di sviluppare una capacità palpatoria che mi permetta di discriminare grossolanamente come si presenta la cute del paziente come si presenta un'articolazione discriminare un hand feel cioè un fine corsa di un'articolazione è duro, è elastico, è gommoso che caratteristiche ha? la pelle è calda, è fredda? in un punto cambia questa percezione? è umida, è secca perché se do uno stimolo meccanico può essere uno sfregamento della pelle si arrossa di più, di meno perché lì è più sensibile dà una sensibilità alterata cioè sono tutte caratteristiche che ovviamente io devo cercare di capire devo cercare di portare alla mia attenzione per riuscire poi a metterle insieme al ragionamento clinico che ho fatto prima parlando col paziente parlando della sua storia clinica dei suoi incidenti se ce ne sono stati delle sue malattie se ce ne sono state eccetera eccetera per capire se posso effettivamente attivarmi se posso fare un trattamento intelligente e migliorare la sua condizione quindi concludiamo questo video con un argomento rapidissimo soprattutto per gli osteopati che mi hanno scritto e ci siamo sentiti eccetera eccetera la cosa importante quindi è la palpazione oltre alla preparazione tecnica scientifica ok quindi la palpazione ci sono tre cose fondamentali da capire la prima è che dovete palpare sentire ascoltare dovete cercare di mettere le mani sulle persone e sui vostri pazienti altrimenti negli anni non riuscirete a creare quella percezione quella palpazione fine che vi servirà poi per lavorare per fare delle cose un pochino più fighe del dare quattro crocche e mobilizzare quattro spalle ok la seconda cosa che è importante per quanto riguarda la palpazione secondo me è cosa che mi ha aiutato tantissimo in questi anni è quella di avere un costrutto mentale cioè voglio lavorare su una struttura anatomica devo cercare di avere un'anatomia in testa corretta soprattutto a strati o avere una corretta manualità un approccio della mano in maniera giusta calcolando che ci sono differenze anatomiche in tutte le persone ma cercando di percepire cercando di entrare nei tessuti dove voglio entrare io e questo è il difficile cioè cercare di discriminare determinate percezioni o determinati ritmi perché io con la mia mente cercando di settarmi su un certo tipo di frequenza riesco a percepire un ritmo o un altro ed è lì che c'è la grossa differenza tra un osteopata che fa delle cose fighe e un altro che fa sempre le solite quattro cazzate perché se riesco a determinare determinati ritmi riesco a interagire con un sistema vivo un sistema che cambia un sistema complesso non è un sistema fatto di articolazioni tendini, legamenti, quattro tiranti, quattro ossa non è così il corpo umano non è quella roba lì quindi se riusciamo a avere idea del ritmo che vogliamo percepire e questo lo possiamo apprendere grazie alla parte scientifica grazie alle ricerche grazie anche a quello che ci dicono determinati altri osteopati o altre figure sanitarie quindi in base a quello riusciamo a settare la nostra testa e cerchiamo e poniamo attenzione nella maniera corretta forse la parola più corretta è poniamo l'attenzione giusta da qui c'è anche la fisica quantistica che ci dice tante cose sul fatto di tenere l'attenzione piuttosto che no riuscire a focalizzare c'è un cambiamento sulla parte quantica invece no se non ci poni attenzione insomma c'è tutta una scienza che sta andando avanti sta venendo avanti soprattutto in Russia con quella che è la medicina quantistica noi siamo un pochino indietro comunque non abbiamo accesso alle ricerche che hanno invece in questo caso i russi però fidatevi che sotto la cosa sta crescendo e sta andando avanti ultima cosa sempre importante che mi sono appuntato perché altrimenti mi scordo è la capacità sostanzialmente di focalizzare volevo farvi un esempio ad esempio con le lingue straniere per capirci meglio se voi questo lo dico metto una postilla perché tanti dicono è impossibile percepire una certa cosa no non si può come fai a palpare un organo che non si può palpare come il pancreas ok a me non mi interessa palpare il pancreas per sentire se nodulare no a me interessa mettere le mani correttamente sul pancreas e andare a palpare il movimento che c'è in quell'area perché a me del pancreas ghiando la stessa non me ne frega un cazzo a me interessa mobilizzare l'area fasciale connettivale legamentosa che lega il pancreas ad altre strutture o migliorare quella che è la mobilità dei tessuti ok dal pancreas alla colonna piuttosto che dal pancreas ad altri organi per determinare un miglioramento del link neurologico o fasciale che si è creato con una determinata disfunzione somatica questa cosa qua la possiamo capire facendo l'esempio delle lingue straniere dove se io non sono bravo in una lingua dovrò cercare di porre attenzione di cercare di pulire tutto quello che sono le frequenze intorno per percepire il meglio possibile le sfumature della parola perché? perché non la so non la capisco se invece io comincio a capire una lingua straniera posso anche fare bricolage fare altre cose intanto scrivere al computer o al telefono e intanto uno che mi parla io lo capisco e gli rispondo perché? perché mi viene facile percepire e capire ma perché? perché all'inizio ho posto attenzione ho creato una determinata mia skill specifica e quindi poi riesco a utilizzarla in una maniera semplice potremmo fare mille esempi come andare in bicicletta in macchina uguale certo che se nessuno palpa come la maggior parte delle persone perché non è il loro lavoro non si può percepire ovvio che se io palpo tutti i giorni dieci persone al giorno per sei sette otto anni è normale che ho una palpazione superiore a chi non lo fa è normale quindi fidatevi la palpazione cresce la palpazione c'è ci sono studi scientifici sulla capacità palpatoria umana e discriminativa andatevi a vedere su Parmed sono molto molto interessanti vedrete come riusciamo a percepire cose veramente veramente piccole detto questo io vi saluto chiuderei il video perché è già troppo lungo domani se riesco faccio un altro video mi piacerebbe parlare di due osteopati che sono Little John e Verlam che vengono sempre menzionati nelle scuole non li conosce un cazzo nessuno fuori dalle scuole di osteopatia ma secondo me sono stati due geni perché hanno capito delle cose fondamentali che poi sono state riprese da zinc e secondo me migliorate da un punto di vista qualitativo vi spiego un po' tutta la storia e tutto il procedimento che osteopata avrà piacere di capire un pochino meglio la situazione la storia di questi due o tre personaggi più che storia il fatto di che cosa vanno a esprimere loro come concetto osteopatico anche perché è veramente comodo per accorciare i tempi di trattamento del paziente ci vediamo domani ciao